Salve a tutti, sono Lorenzo Billi, il nuovo playmaker della bakery Palacanestro Piacentina. Sono alto 1,81 e vengo dalla Serie Cimo di Alessandria, sono nato il 3 maggio del 1997 a Casale Monferrato. Sono un playmaker tendenzialmente non vecchio stile, quindi preferisco finalizzare piuttosto che fare l'assist vincente ai miei compagni, ma sono anche quel tipo di giocatore che se dovesse portare i pop corn sugli spalti ai tifosi lo farebbe senza alcun problema. Sicuramente questa è la mia prima opportunità seria che mi è stata data in Serie B, infatti ringrazio il press, ringrazio Stefano e tutta la dirigenza di questa opportunità che mi è stata data. Parlando della squadra, penso che sia una squadra con obiettivi chiaramente molto ambiziosi e penso che sia una squadra fondata più che sulle individualità, che comunque sono importanti anche sul gruppo. Penso che ognuno sia disposto a sacrificarsi per il compagno di squadra senza nessun problema. Sarò anche uno dei ragazzi che farà parte del prossimo campionato di divisione nazionale giovanile, che è un po' la Serie A dei giovani, è un campionato su cui so che la società ha investito molto, per cui spero di non derluderla anche sotto questo punto di vista. Per raggiungere però chiaramente gli obiettivi che ci siamo prefissati ad inizio campionato avremo bisogno di un supporto soprattutto da voi tifosi che dovrete accorrere assolutamente al Palabakery. Per cui la stagione è alle porte, tutti al Palabakery! Grazie a tutti!